Mi chiamo ancora Roberto Piero, il termine dell'immatch è qui del Country Club contro la Cereada Calcio 5, dove l'ultimo stato finale, ma diciamo che l'arbitro forse ha influenzato un po' la partita nel secondo tempo, ma nel primo tempo è stata comunque una bella partita, il Gaeta forse meritava il pari nel complesso, no? Io oggi faccio un elogio all'Atletico Gaeta, a tutta la squadra perché oggi ha disputato veramente una grande partita, mi dispiace aver perso, però va bene per il comportamento della squadra e tutto, sono rammaricato soltanto per il risultato, purtroppo incontravamo il Ceriara, Ceriara è una buona squadra dove punta a vincere il campionato, loro sono un po' più esperti di noi, una volta messo a sicuro il risultato sul doppio vantaggio si sono ben chiusi in difesa e hanno portato la vittoria fino alla fine. Il secondo tempo è stato un monologo dell'Atletico Gaeta, quindi il gol, un po' il portiere, un po' qualche errore di troppo, sicuramente il gol poteva starci. Sì, abbiamo puntato molte volte a cercare il gol per il pareggio, non ci siamo riusciti per la bravura del portiere, per la sfortuna, qualche decisione dell'albitro, però purtroppo abbiamo perso, loro hanno i tre punti, noi abbiamo i zero punti. Un'altra cosa positiva è la connessione pubblica, la country club, molte persone sono venute a vedere la partita. Sì, fa piacere a tutti noi vedere il country club pieno di amici che ci seguono, spero pure per le altre partite, già iniziando da sabato dove abbiamo il derby con il ginnastic, che le tribune ci sono pieni di amici che ci tifano. Siamo un po' rimareggiati per la sconfitta, però purtroppo il campionato è lungo, continuiamo. Da cosa in bocca al lupo. Crepi, crepi.